Caos nomine supplenti. Per ovviare al non funzionamento della compilazione del modulo online introdotto da quest'anno, il sindaco di Verbagna Silvia Marchionini raccoglie la preoccupazione degli insegnanti e mette a disposizione una sede per rifarla in presenza, insomma alla vecchia maniera. Il problema era garantire il distanziamento sociale. Il sistema online sarebbe stato la soluzione, oltre a rappresentare una risposta al passo con i tempi. Peccato che il sistema informatico non funzioni, con il rischio di lasciare cattedre scoperte e insegnanti disoccupati. Marchionini ha fatto sapere alla dirigente dell'ufficio scolastico provinciale di mettere a disposizione il palazzetto dello sport e il teatro in maggiore. Lunedì arriverà la risposta. Ovviamente sarà necessario un apposito protocollo sanitario. Diversi insegnanti sottolineano come il problema al sistema informatico non sarebbe dovuto al numero di accessi, ma proprio a un difetto del programma. Chiedono così un passo indietro e il ritorno al vecchio sistema. Problemi simili si sono riscontrati in quasi tutto il Piemonte e non solo.